Il comune di Agropoli è risultato destinatario di due finanziamenti regionali. Il primo, pari a 50.000 euro, è relativo ad un infopoint multimediale. Altamente tecnologico si aggiungerà ai classici infopoint attualmente presenti sul territorio che svolgono una importante azione di informazione e guida per visitatori e turisti. Il secondo finanziamento, pari a 190.000 euro, riguarda invece l'immobile dell'ex pretura sito in via Pisacane a pochi passi dal porto turistico. Serviranno per l'adeguamento funzionale mediante il restauro e il risanamento conservativo del secondo piano del palazzo. Gli interventi prevederanno il consolidamento delle strutture, la sostituzione dei solai, il rifacimento degli impianti, elettrico, idrico, termico. Saranno inoltre realizzate nuove stanze da destinare a funzioni socio-culturali. La location, denominata Palazzo Civico delle Arti, ospita attualmente il Museo Civico ed è sede di sale espositive dove, in maniera costante, vengono operate mostre artistiche e sede inoltre degli uffici del Centro Informa Giovani e della Biblioteca Comunale. I nuovi lavori al Palazzo Civico delle Arti, afferma il sindaco Adamo Coppola, consentiranno di valorizzare un sito che da tempo abbiamo destinato alla cultura, un settore verso il quale abbiamo riposto molto interesse e che riteniamo portante anche per puntare ad un turismo di qualità in ogni periodo dell'anno. Inoltre l'infopoint multimediale interessante, anch'esso sempre in chiave turistica, arricchirà la nostra proposta di punti informativi già dispiegati in diversi punti di interesse cittadino.